Come si fa a non coniugare diritto, legalità e umanità e accoglienza? Chi ancora si riempie la bocca parlando di respingimenti o altro dovrebbe venire nel mio fatiscente tribunale per vedere gli occhi di questi ragazzi. Mentre l'Europa discute su se e quanto accogliere il garante dei minori della regione Emilia Romagna Clede Maria Garavini e il presidente del Tribunale dei minorelli di Bologna Giuseppe Spadaro hanno firmato il protocollo di intesa sui minori stranieri non accompagnati un'intesa che istituisce l'elenco dei tutori volontari cittadini che potranno scegliere di essere selezionati e formati per essere non solo rappresentanza giuridica ma espressione di una nuova forma di genitorialità sociale di cittadinanza attiva in grado di accompagnare i bambini verso il ricongiungimento familiare quando è possibile la maggiore età e l'indipendenza. Sono in grado, devono essere in grado di dare risposte, risposte soprattutto affettive relazionali e di accompagnamento nella crescita. Il protocollo di intesa è stato presentato in assemblea legislativa alla presenza dell'arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo Maria Zuppi del rabbino di Bologna Alberto Sermorenta e di una rappresentanza della comunità islamica. In Emilia Romagna sono 1160 i minori stranieri non accompagnati il 90% tra i 16 e i 17 anni, l'8,3 15 anni, il 3,7 tra i 7 e i 14 anni. La maggior parte arriva dall'Albania, il 40,6%, il 12,5% dal Gambia e il 7,3 dalla Nigeria. Se le istituzioni vengono in conto e tutelano anche chi vuole aiutare, credo che questo permette anche tante risposte che altrimenti non ci sarebbero. A noi siamo sempre impegnati nel difendere chi ha bisogno di assistenza, chi ha bisogno di garanzie. È importantissimo che vengano seguiti, che il fatto che ci sia una figura di riferimento magari del suo stesso paese che comprenda magari la sua cultura e i suoi bisogni.